Benvenuti ragazzi sono Marci e benvenuti in questo video dopo un bordello di tempo Oggi ragazzi siamo su un video troll sui survival games di Hellcraft insieme ad Alice Io ragazzi vi invito subito a lasciare un mi piace se volete questa nuova serie di video troll Perché ragazzi sono divertenti, anche se questo sarebbe il terzo episodio Ripartiamo dal primo perché voglio fare una serie un pochino strutturata meglio Infatti sarete voi nei commenti a fare con un hashtag MarciAliTroll Perché in questo caso ci sarà Alice Un troll che vorrete vedere nell'arco della serie Che sia sugli Skywars, su survival games o su un'altra modalità Quindi ragazzi mi raccomando arriviamo a 700 mi piace per questo nuovo video Noi ci vediamo dentro il video, bella Bella ragazzi sono Marci e benvenuti in questo nuovo video troll sull'Hellcraft Oggi se mi conviene di Ali Ciao Ali 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 metiti in creativa Ok adesso prenditi la pozione di invisibilità Invisibility splash ok Adesso ragazzi dobbiamo trovare delle tecniche E in questo video le sceglieremo noi Voi poi sotto nei commenti È iniziata Oh my god Ok Ali dove sei? Tipo ti da me Boston al centro Ok io non E mica ti vedo Eh aspetta Ok io ti vedo Ah devo bere la pozione di invisibilità Eh sì ma non devi farti vedere che la bevi Ok non ne sono mai visto Oddio Oddio Ma ora non mi vedono Aspetta Aspetta Ma io non ti vedo dove sei? Eh sì e neanche io ti vedo Cioè oddio vedo qualcosa che vuole Ma non so Ok Mettiti qualcosa in mano Ok Ok ti vedo ciao Allora adesso Ragazzi nei commenti fate Hashtag Marci e Alitroll E scrivete tipo Dei troll da fare Qual è che è questo? Stai cercando di capire dove siamo No Aspetta Allora adesso raga Butteremo un po' di item a caso Tipo le spugne Cosa del genere Perché la gente si prende tipo troppo male Guardate Si prende male Valza Questo Io butto uscire Poveretto Si sta guardando Guarda Dov'è che sei Ti va a buttare i fiori Aspetta Tipati Tipati Questi qua stanno Compattendo E io gli do L'hai retto Aspetta ma qua Possono spawnare Tipo i maiali Io faccio spawnare i blade No non si può I regali ero una rosa Una rosa rossa Per dipingere ogni cosa No non si possono Una rosa Ma sempre lui Poveretto Anche prima Secondo me deve cuocersi il pane Secondo me possiamo Possiamo mettere la lava Non so se mi spiega Oddio si fa Oh mio dio No vabbè Ma qua si facciano strade Non so se mi spiega Non so se mi spiega E andiamo da quello lì, e ora li metto tutta l'acqua possibile e lo blocco Questo qui sta, è inseguito sto qua, è inseguito sto qua Ah eccolo, e mettiamogli la pazienza di invisibilità così non si vede più Ma mi sa che allora ci vedono il nuovo, questo qui va senza niente Aspetta Vieni colpiscono con le uova È vero aspetta con le uova Io con la neve dai, il snow, tanto per essere diverso Ma sembra lui Mi guardano, mi guardano in alto Non vale Vediamo se va il comando Ma non vale Chi che l'ha scritto? Mi sono scrivendo in chat Tipizziamo tutti Ma non so i nomi Metti la please Questi si stanno inseguendo Aspetta devo mettere l'acqua che lo blocca Li posso tipizzare tipo sopra questa cosa Tipizzati, tipizzati, tipizzati dove vuoi Nooo Qua sopra Aspetta, anch'io si spagnolo Io li metto qua sopra Vieni qua, vieni Guarda, guarda Dov'è che sei aspetta? Tipizzati Dov'è che sei? Nooo Dov'è che sei? Trafic ma da margini Tutti qua Sono tutti qua Sono tutti qua Questa sta facendo strage Oh, peraltro rimaniamo noi Perché noi siamo ancora in game Eh sì Nooo Io questo lo butto giù con le uova Io questo lo metto in acqua Nooo Si sto in acquaando Aspetta ti salvo io con la lava Con la lava? Non funziona Si fa la... Si fa la... Ossidiana Nooo Guarda Un nemico Mamma mia come griffare una mappa dei survival game Non è ancora morto No, non è ancora... Aspetta ma quant'è che sono in partita? Siamo quattro Siamo noi Eh sì, siamo noi Adesso aspetta Io li darei Tipo dei mattoni Che la sto seguendo con la lava? Guarda Dov'è me? Ha preso fuoco Guardalo, guardalo Guardalo No, no, non deve morire È morto È troppo tardi Giocatori due Siamo io e te e basta Guarda Adesso guarda Kill Alice Pro Alice No, non lo faccio Che merda Che merda Dimmi che hai vinto e ti ammazzo Certo che ho vinto Dai ma porca miseria Ma non è giusto Non è giusto Che vittoria signori Vabbè ragazzi Come primo video troll È tutto Scrivete sotto nei commenti Su quale modalità Skyward Su faction Dove volete il nuovo troll insieme a qualcuno Anche insieme ad Alice Scrivete quindi Marci Alice troll E Scrivete qualcosa di figo Lasciate un piace Bella Ciao E passate il mio canale E passate dal canale di Ali Ciao 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 Siamo insieme Siamo insieme a Joe minecrafter ragazzi E lui è stato quello trollato Poveretto E quindi non mi arrabbio Quando mi trollate poi in un video è sempre bello E si infatti Comunque ragazzi quindi per questo video è veramente tutto Un saluto anche da Joe minecrafter Ciao Iscriviti al mio canale E anche a quello di Joe minecrafter Grazie a tutti